Se la tua vita fa schifo, sei triste, depresso, demotivato, molto probabilmente è tutta colpa di questa molecola. Si chiama dopamina e tutto ciò che sai su di lei è sbagliato. Ehi leone, piccola interruzione prima di raccontarti tutto quello che devi sapere sulla dopamina. Ascolta bene perché è interessante. Questo che stai guardando è il secondo video della mia challenge sul dopamine detox. Ho infatti creato una sfida da 8 settimane in cui ti spiego step by step come fare il tuo primo dopamine detox e trasformare la tua vita. Facendo questa sfida da 8 settimane imparerai prima di tutto ad amare la fatica. Diventerai più costante e disciplinato, i tuoi livelli di motivazione aumenteranno e soprattutto potrai finalmente lasciarti alle spalle tutte quelle cattive abitudini che stai cercando di eliminare da un po' dalla tua vita. Parlo di scrollare per ore e ore sui social, di guardare i porno, di mangiare cibo ultra processato o di giocare troppo ai videogiochi. Ed eliminando tutte queste cose potrai finalmente smetterla di sentirti uno schifo. Perché, e parlo per esperienza personale, molte volte mi sono sentito uno schifo. Quando ho fatto il mio primo dopamine detox finalmente le cose sono cambiate in meglio. Come ti ho detto questo è solo il secondo video del mio corso, della mia challenge sul dopamine detox. Quindi, se vuoi davvero trasformare la tua vita e raggiungere il tuo massimo potenziale, tutto quello che devi fare è unirti alla mia community privata. Clicca il link qui sotto in descrizione per saperne di più. Ti avviso solo di una cosa importantissima, ovvero che hai tempo fino all'8 di agosto. Dopodiché non potrai più entrare fino a ottobre o novembre, quindi approfittane. Ripeto, clicca il link in descrizione per saperne di più. Continuiamo con la dopamina. Ecco cosa è successo più volte di quanto possa contare nella mia vita negli ultimi anni. Mi svegliavo, casomai abbastanza presto, lavoravo bene la mattina, poi andavo a pranzo, mangiavo la mia insalatone, mi sentivo bello leggero, tornavo a lavorare un po' nel pomeriggio, poi mi allenavo e una volta fatte le 7-8 di sera tornavo a casa. Una volta a casa preparavo la mia tipica cena da palestrato che mi faceva sentire bene, quindi petto di pollo, casomai delle patate, della verdura e se serviva anche un po' di pasta o di riso. Mangiavo ed ero abbastanza sazio e la giornata avrebbe dovuto concludersi, casomai mi sarebbe piaciuto prendere un libro e iniziare a leggerlo. Però c'era un piccolo ostacolo, praticamente quasi ogni sera della mia vita. Ovvero che una volta che avevo finito la mia cena salutare, la mia cena fit fatta di verdura, di petto di pollo, di un po' di pasta, aprivo la mia dispensa e vedevo il pacco dei biscotti che mio papà puntualmente comprava per la sua colazione. Di solito erano gli abbracci oppure galletti, ogni tanto c'erano anche le gocciole. Io quindi aprivo la dispensa, guardavo quel pacco o quei pacchi di biscotti e dicevo no, 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 e richiudevo lentamente la mensola. Quindi casomai andavo in stanza mia, iniziavo un po' a leggere il libro e dopodiché mi mettevo a pensare e non riuscivo più a concentrarmi sulle parole del libro. Quindi tornavo in cucina, casomai riaprivo la dispensa, riguardavo i biscotti, la chiudevo e poi dicevo sai Marco cosa? Un solo biscotto. Aprivo la dispensa, prendevo il pacco di biscotti, casomai mi versavo un po' di latte, prendevo un biscotto, lo tocciavo dentro, lo mangiavo e dicevo buono cavolaccio, però adesso basta. E poi una vocina nel mio cervello mi diceva ma dai mangiane ancora uno, oggi ti sei allenato bene, hai fatto tutto bene, che vuoi che ti faccia un biscotto? E quindi ne afferravo un altro, ne mangiavo un altro. E dopo il secondo però questa vocina continuava a parlarmi e mangiavo il terzo, mangiavo il quarto, mangiavo il quinto fino a che praticamente ogni sera mi mangiavo mezzo pacco di biscotti e buttavo all'aria tutto il progresso fatto durante la giornata. Buttavo all'aria tutto l'allenamento, tutta la dieta che avevo seguito per l'intera giornata. Perché? Perché quei cazzo di biscotti erano sempre lì nella dispensa e io ogni sera ci cascavo come un pirla. Partivo dicendomi un biscotto e finivo a mangiarne metà pacco ogni singola volta. Leone piccolo disclaimer, se questo video ti sembra noioso e stai già scrollando nei commenti a vedere cosa hanno scritto le altre persone oppure se ti è già passato per la testa di chiudere il video e guardarne un altro, non farlo. Perché sei esattamente il tipo di persona che ha bisogno di capire le cose che ti sto per dire. Leone ti chiedo solo di fidarti di me. Se sei stufo di essere un perdente letteralmente, se sei stufo che la tua vita ti faccia schifo e sei stufo di continuare a fallire, a fallire, a fallire, guarda tutto questo video. Anche se ti sembra un pelo noioso, guardalo tutto dall'inizio alla fine e poi guardati anche tutto il resto di questo corso sul Dopamine Detox. Fidati semplicemente di me. Questo è il secondo video del corso sul Dopamine Detox e in questo video andremo a parlare di dopamina. Quindi che cos'è la dopamina? Che cos'è questa molecola ormai famosissima? La dopamina è un neurotrasmettitore coinvolto in moltissimi processi della nostra vita. Infatti alcuni aspetti in cui è coinvolta la dopamina sono per esempio la capacità di apprendimento, di memoria, di concentrazione, la nostra motivazione, il nostro mood e anche il nostro movimento. Negli ultimi anni però questa molecola non ha sviluppato una buonissima reputazione. Anzi ogni volta che si parla di dopamina si parla male di lei. Eh no guarda mi sono riempito il cervello di dopamina, devo eliminarla dalla mia vita. No, non è così. In realtà la dopamina è stata di fondamentale importanza per l'evoluzione della nostra specie. Di qualsiasi specie in realtà. E senza dopamina non saremmo mai arrivati fino a qua. Come mai è stata così importante per la nostra evoluzione come specie? Perché il nostro organismo di base ha due scopi. Quello di sopravvivere e riprodursi. E quindi premia tutte quelle attività che pensa aumentino le nostre chance di sopravvivenza o di riproduzione. Come premia queste attività? Rilasciando dopamina nel cervello. Questo è il motivo per cui il cibo tanto salato, calorico, grasso oppure anche zuccherato ci crea tanta dipendenza e rilascia dopamina nel nostro cervello. Perché? Perché l'azione di mangiare è qualcosa che ci permette di sopravvivere. Quindi il nostro cervello dice Ah ok, questa è un'azione buona per la sopravvivenza. Aspetta che lo premiamo rilasciando dopamina. Lo stesso motivo per cui il sesso è tanto piacevole. Semplicemente perché quando facciamo sesso, quando abbiamo un rapporto sessuale il nostro cervello dice Ah ok, questa è una chance di riprodurci come organismo. Rilasciamo dopamina. Oppure un altro esempio è quando vinciamo una competizione. Infatti quando vinciamo una competizione il nostro cervello letteralmente rilascia dopamina e ci fa sentire bene. Perché? Perché una volta quando eravamo degli antenati e vincevamo una competizione che poteva essere contro il membro di un'altra tribù oppure contro una tigre dai denti a sciabola il nostro cervello diceva Ah ok, hai vinto questo scontro quindi rilascio dopamina. Perché? Perché vincendo hai aumentato le tue chance di sopravvivenza. Ok? Quindi il nostro cervello ci premia per le azioni che pensa ci diano più chance di sopravvivenza o riproduzione. Segnatelo bene. Quindi per decenni la dopamina è stata chiamata la molecola del piacere. Perché? Perché si sono accorti che veniva rilasciata dopamina quando facevamo delle sostanze che ci rilasciavano piacere come il sesso, come appunto mangiare cibi calorici, zuccherati o grassi. Fino a quando è stato scoperto che in realtà viene rilasciata nel nostro cervello più dopamina in anticipazione dell'evento rispetto all'evento stesso. Quindi viene rilasciata più dopamina prima di un rapporto sessuale, prima di un pasto bello calorico, denso e grasso, rispetto a quando hai il rapporto sessuale o mangi quel determinato pasto. È stato infatti scoperto che la dopamina non è solo la molecola del piacere che viene rilasciata quando facciamo qualcosa che ci piace, ma è la molecola che ci mette in moto, che ci fa agire. È il nostro motore di propulsione, non so neanche se si dica così, ma è quel motore che ci spinge ad agire e che ci fa superare i nostri limiti. E per questo la dopamina ci ha permesso di evolverci e di svilupparci come specie, perché è stato quel motore che ci ha sempre spinto a dare di più, a fare di più, a ottenere, a conquistare, ad inventare di più. E questo è fighissimo, perché la dopamina è una molecola fighissima che ci ha permesso letteralmente di evolverci come specie e di arrivare fino a questo punto. Fino a quando scopri che le migliori menti della nostra generazione hanno passato anni delle loro vite, rinchiusi a dentro degli studi con i migliori scienziati al mondo, a capire come sfruttare questo meccanismo della dopamina a loro vantaggio, ovvero come creare dei prodotti che rilasciassero più dopamina possibile con il minor sforzo. Perché credi che i contenuti ora si scrollino in verticale? Perché rilasciano più dopamina. Perché pensi che esista un tasto di like su Instagram, su Facebook e su TikTok e su YouTube? Perché rilascia dopamina. Perché pensi che i cibi dei fast food siano così grassi e calorici? Perché quel tipo di cibo è quello che rilascia più dopamina nel nostro cervello. E perché pensi che esistano così tanti siti e così tanti video porno in questo pianeta e che siano così accessibili? Perché rilasciano dopamina. Sai qual è il punto? È che ormai sappiamo che la maggior parte di queste cose non ci fanno bene. Sappiamo che non dobbiamo ingozzarci di continuo di cibo spazzatura, di cibo ultraprocessato, di cibo di fast food, di bevande gassate. Sappiamo che non dobbiamo stare tutto il giorno a scrollare su Instagram o su TikTok perché questo fotte la nostra salute mentale. E sappiamo anche che guardare video porno su video porno ci fa stare malissimo, ci crea problemi a livello mentale. Sappiamo tutti che non vanno fatte quelle cose, giusto? Eppure non riusciamo a smettere. Non importa quanto ci impegniamo, non riusciamo a smettere. Questo perché il nostro cervello non è logico ma è emotivo. Non è che funziona calcolando tutte le cose, scegliendo l'opzione migliore, ma sceglie l'opzione più facile. Quando davanti a noi c'è la possibilità di ricevere una botta di dopamina senza fare il minimo dello sforzo, il nostro cervello il 90% del tempo la sceglierà senza pensarci due volte. Agirà in automatico. Ripeto, il nostro cervello non è logico ma è un cervello emotivo. E anche a costo di farci male, anche a costo di rovinare le nostre stesse vite, continueremo a cadere in questa trappola della dopamina. E continueremo a fare queste attività che piano piano ci distruggono la vita. E l'hanno pure dimostrato due scienziati nel 1954, James Hall e Peter Milner. Hanno infatti preso dei topi da laboratorio, gli hanno infilato degli elettrodi nel cervello, li hanno messi in una scatola e dentro la scatola hanno messo una leva che se veniva premuta stimolava il cervello del topo, ok? Perché gli elettrodi erano attaccati alla parte del cervello del topo che produceva piacere, che rilasciava dopamina. E dopodiché cosa hanno fatto? Hanno preso una scatola più lunga, hanno messo il topo da una parte della scatola, la leva dall'altra parte e in mezzo, tra il topo e la leva, ci hanno messo una griglia elettrificata. E di cosa si sono accorti? Che i topi, senza pensarci due volte, scattavano sulla griglia elettrizzata, un qualcosa che li creava veramente tanto dolore, pur di continuare a premere quella leva che li rilasciava dopamina nel cervello. E i ratti, quando avevano la leva davanti, potevano continuare a premere quella leva anche a costo di morire di fame. Infatti non gli interessava più di bere, di mangiare, di riprodursi, di fare nient'altro. Volevano solo premere la leva tutto il giorno. E sai cosa? Noi siamo esattamente come quei ratti, disposti a rovinare la nostra vita pur di ottenere la botta successiva di dopamina. L'esempio più eclatante sono le persone tossicodipendenti, disposte a vendere tutto, a rovinare le proprie vite pur di ottenere la dose successiva. Questo della dopamina è un meccanismo talmente tanto potente che se non viene tenuto sotto controllo, può tranquillamente rovinarti la vita. Pensa a tutte le volte che hai a dieta, che ti sei allenato bene, che stavi andando bene e poi ti sei ingozzato di cibo ultra processato, di fast food, di merendine. Quanti pomeriggi hai passato a scrollare su Instagram, su TikTok, a guardare video su YouTube di cui non ti fregava niente? Quante volte ti sei masturbato anche quando sapevi che non avresti dovuto farlo? Cosa mai l'hai fatto una volta, due volte, tre volte, quattro volte, anche cinque volte in un giorno solo? E ti dico una cosa, il meccanismo è sempre lo stesso. Ora, Leone, c'è una cosa importantissima che devi capire, ovvero che praticamente qualsiasi cosa noi facciamo nella nostra vita, il nostro cervello rilascia della dopamina. Dosi più elevate o meno elevate di dopamina, ma comunque viene sempre rilasciata, di continuo. E anche se scientificamente non è giusto oppure non esiste nemmeno questa differenza che sto per fare, noi la faremo per comodità. Infatti per questo video e anche tutti i prossimi video del corso sul dopamine detox, faremo la differenza tra attività e sostanze che rilasciano dopamina alfa, che sono quelle sostanze e quelle attività che rilasciano le giuste dosi di dopamina nel nostro cervello, quelle attività che potremmo chiamare costruttive. Per esempio il lavoro, l'allenamento, lo studio, il leggere, l'imparare, il chiacchierare con un amico, il meditare, il godersi il momento, insomma tutte queste attività costruttive. E poi c'è la dopamina beta, ovvero tutte quelle sostanze e quelle attività che rilasciano troppa dopamina nel nostro cervello e lo fanno troppo velocemente, senza richiedere il minimo sforzo. Pensa al cibo spazzatura, ai social network, ai videogiochi, all'alcol, il fumo, le droghe, il gioco d'azzardo, la pornografia, insomma tutte queste cose che rilasciano delle quantità spropositate di dopamina nel cervello molto velocemente, senza che tu debba fare il minimo sforzo per ottenere quella dopamina. E quindi il nostro obiettivo con questo Dopamine Detox sarà quello di ridurre al minimo le sostanze e attività che rilasciano dopamina beta, la dopamina cattiva di scarsa qualità, nella tua vita. E questo ti permetterà di goderti, prima di tutto, molto di più la vita, di essere più motivato, più energico, più sicuro in te stesso, più felice, più lucido mentalmente, di imparare, di studiare meglio, di essere più spronato a lavoro durante l'allenamento. Ci sono talmente tanti benefici che non sto nemmeno qua nell'encarta di tutti. Se tu applicherai e farai insieme a me il Dopamine Detox, letteralmente cambierai la tua vita in meglio. E questo è quello che voglio aiutarti a fare. Nei prossimi quattro video di questo corso andremo a scavare a fondo in alcune delle attività e delle sostanze che rilasciano dopamina beta, dopamina di scarsa qualità, nelle nostre vite. Quindi, Leone, iscriviti al canale, metti like e fammi sapere nei commenti se farai il Dopamine Detox insieme a me e insieme a tutti gli altri ragazzi di questa community, di questo movimento. Ricordo un'ultima cosa, senti la paura e fallo comunque.